C'è attesa mista a curiosità. Comincia il campionato tuttora incompleto e il Pescara sarà di scena a Terni. E' già un test probante contro una squadra retrocessa dal Serie B. Le sensazioni di Silvio Baldini. Sono presentato che ho fatto il 4-2-3-1 perché credo che sia un modulo molto offensivo, sia molto più offensivo del 4-3-3. Però la nostra squadra legge meglio il 4-3-3 perché sono cinque anni che fanno il 4-3-3 e hanno avuto un allenatore molto bravo. Ecco che lui è un maestro, Zeman, che gli ha fatto fare tantissimi gol. Quindi questi ragazzi hanno nella loro memoria, quindi nella loro fiducia, di credere di più in questo modulo che non nell'altro. Che poi secondo me le differenze sono pochissime, ma però non bisogna mai mettere in dubbio i giocatori. I giocatori devono essere liberi di giocare con il gusto di andare a giocarsi la partita indipendentemente dall'avversario. Ho grande fiducia, ho grande fiducia perché so che hanno lavorato veramente bene e hanno lavorato convinti di quello che facevano. 11 certo e non probabile. In controtendenza Baldini ha sciorinato la formazione che scenderà in campo. Inutile fare per tattiche. I nuovi, Moulet e Lonardi, partiranno dalla panchina. 4-3-3, Pizzari, tre pali in difesa a Pierozzi, Brosco, Pelacani e Crialese. A centrocappo squizzato play, Dagasso e Tuniov, Mezziali. Davanti, Bentivegna e Cangiano a supporto di Edoardo Vergani. La novità, il baby Antonio Arena, 15 anni, classe 2009, 183 centimetri, punta centrale di movimento. Arriva da una delle academy australiane della pescara calcio. Papà originario di Celano. Baldini ne è rimasto impressionato. Per Arena sarà la prima convocazione. Io ho fatto allenamento, ho visto uno che fa gol. Ho visto un ragazzo che non mi sembra che abbia 15 anni e mezzo, ma mi sembra molto più grande come maturità fisica, ma soprattutto anche di testa. Ho visto un ragazzo che secondo me ne sentirete parlare, perché questo ha i numeri per poter arrivare dove vuole. Comincia la stagione agonistica col mercato aperto. Non in massimo, Baldini taglia corto e afferma convinto. Io sono contento di quello che ho, non me ne frega chi c'è e chi non c'è. Speriamo che a mezzanotte e un minuto, quando è il 31, di esserci tolto questo peso di questo mercato, che non se ne può più. E quindi qualunque squadra io avrò, sarò contento. Ho fiducia che a maggio saremo tutti contenti. Come si diceva inizialmente Ternan, appena retrocesso dalla Serie B, tante le facce nuove, a cominciare dal tecnico, l'esordiente Ignazio Abate. 38 anni da compiere, passato importante da calciatore del Milan, circa 250 presenze, anche 22 gettoni con la nazionale maggiore. Rosa ampiamente rinnovata, sistema di gioco 4-2-3-1, tre pali, il debuttante in C, Denis Franchi, classe 2002. In difesa a Casasola, Loiacono, gli ex Capuano e Martella. A centrocampo Damiani e Aloy, altro recentissimo ex. Esterni Patanè e Cicerelli, tra le linee Carboni, alle spalle di Alexis Ferrante. In ritardo di condizione, Alfredo Donnarumma partirà dalla panchina. Ternana incline a costruire dal basso, col coinvolgimento continuo del portiere. Il tecnico, Ignazio Abate. Sono contento di incontrare una squadra forte e blasonata come il Pescara, allenata da un grandissimo allenatore che è stato fonte di ispirazione per tanti noi giovani, perché ci permette di capire subito cosa ci aspetterà in questo campionato e ci costringe ad alzare da subito l'asticella. Quindi è una partita di cartello davanti al nostro pubblico. C'è tutto per far bene e vivere una bella serata, sempre rispettando l'avversario, sapendo la forza dell'avversario. L'avversario che tu incontri te lo dà il calendario, ma il vero avversario sei te stesso, perché ogni partita che tu devi fare la devi fare cercando di dare il massimo. Poi se loro sono più bravi, gli diremo bravi, non è inutile stare a fare tanti giri di parole. I precedenti in Umbria sono 25, 12 successi per la Ternana, 9 pareggi appena 4, le vittorie del Pescara, due delle quali nel 1949-50 in C1-3 e nel 1951-52 0-2 campionato interregionale. 41 anni fa, 13 febbraio 1983, l'espload dell'undici di Tom Rosati, 1-2 grazie alle reti di Dalla Costa e del talentuoso Biagio Lombardi, per la quarta affermazione al Liberati, trascorreranno ben 35 anni. Nel mezzo tanti KO e diversi pareggi. Nelle immagini il 2-2 in B del 3 aprile 1999, vigilia di Pasqua, subito sotto il Pescara di Gigi De Canio, marcatore Borgobello assistito da Sessia, 1-1 di Paolo Rachini al termine di questa azione meravigliosa. Un tocco e via, Gelsi, Baldi, Sullo, ancora Baldi che ricama per Paolo Rachini, colpo di testa vincente deviato da Capitan Fabris. Nella ripresa, padroni di casa, di nuovo avanti, rigore trasformato da Cucciari. A 20 dal termine, il regalo dell'arbitro Bolognino di Milano, fallo inesistente di Maier su Gelsi che trasforma dal dischetto. Sempre in B, campionato successivo, 21 novembre 1999, il Pescara di Galeone domina in lungo e in largo. Vucoya viene atterrato in area da Lucci, espulso, rigore del croato Baldi di Sinnesca. Ciò malgrado la sblocca a Palumbo, gran gol su assist di Michele Baldi, ma al sessantesimo, splendida punizione di Paolo Annoni, finisce 1-1. Cinque anni più tardi, 18 gennaio 2004, gli Umbri di Beretta infliggono un peritorio 3-0 al Pescara di Ivo Iaconi. Assoluto protagonista Riccardo Zampagna, autore di una doppietta. Tris di Mario Frick, servito da Ferrarese, subentrato ad Esposito. Ancora in B, 12 settembre 2005, altro 2-2. L'attaccante del Liechtenstein, Mario Frick, porta in vantaggio la ternana di Antonio Sala. Tre minuti più tardi, corner di Pesaresi e stacco imperioso di Daniele Dellicarri. Allo scadere del primo tempo, su punizione, il trequartista cileno, Luis Imenetz, infila il portiere Tardioli. Nella circostanza non proprio irreprensibile. Purtuttavia, il Pescara di Maurizio Sarri la pareggia con Daniele Croce, su sponda intelligente di Fabrizio Cammarata. Tre anni dopo, in Serie C, la ternana di Francesco Giorgini travolge con un debordante 4-0 ai Biancazzurri di Beppe Galderisi. Due gol a testa per l'allora ventenne Stefano Scappini. E per l'ex, mai rimpianto, ma ottimo giocatore Marco Rigoni. Sempre in C, altro K.O. il 21 febbraio 2010. Apre Concas al quarantesimo del primo tempo. Chiude Tozzi-Borsoi a otto dal termine. Nel mezzo però Pescara in nove uomini. Rosso diretto combinato a Massimo Ganci e secondo giallo al sessantaquattresimo per Simone Vitale. Pescara e Ternana si sfidano di nuovo in B il 7 settembre 2014, seconda giornata di campionato. Pesoli si eclissa 1-0 di Fabio Ceravolo. Pareggio e prima rete in Biancazzurro di Cristian Pasquato con questo pregevole calcio di punizione. Seppure di misura del fino sconfitto anche il 26 marzo 2016. Quel campionato terminato in trionfo. Il punto più basso della Pescara di Massimo Oddo. Quinto K.O. di fila. Marcatore a 10 dall'epilogo Massimiliano Busellato. L'ultima volta a Terni. 28 aprile 2018. Il Pescara di Beppi Pilon si impone nettamente. 3-0. Successo determinante in chiave salvezza. In calce la firma di Macin, Mancuso e Cristian Capone.